Sono in attraversamento sul pescassero lì, sono stato costretto a deviare la mia rotta verso ovest per evitare quello che vedete, cioè questo bel temporale che interessa la zona dalla Meta, se ho capito bene, fino a Roccaraso, fino a Casa Prota. Quindi passo in Larroveto, questo è il passaggio, e vengo giù via sud-ovest, vediamo.